Musica Torna l'Animal Day, è la terza edizione ed è organizzato dalla Lida di Pinerolo. Questa manifestazione è davvero importante ed ha raggiunto la sua terza edizione. L'obiettivo è quello appunto di riunire le associazioni presenti, quest'anno abbiamo proprio esteso a livello regionale e quindi speriamo che il prossimo anno da 25 Gazevo ce ne siano il doppio perché le associazioni, ci siamo resi conto che le associazioni sono tante ed è giusto secondo me ogni tanto fermarsi, intanto conoscersi perché spesso non ci si conosce e magari l'obiettivo è quello di trovare un tema in comune e magari lavorare insieme in quell'anno per promuovere un evento in comune perché altrimenti rischiamo che ognuno è intrappolato nel suo territorio. Ad esempio noi come Lida a Pinerolo ci occupiamo del canile di Pinerolo, dei gatti di Pinerolo e rimaniamo appunto bloccati nel proprio territorio. In realtà il problema del rispetto e benessere animali è un problema allargato, che non riguarda solo il territorio. E quindi l'idea di fare questa manifestazione è proprio questa, di unirsi, parlare, conoscerci e insomma riflettere. Il benessere animale per noi è a 360 gradi, infatti non ci sono, non si parla di benessere solo per i cani e i gatti ma appunto questa manifestazione viene promossa una cultura anche alimentare non violenta che è quella vegana. Parole di più sulla Lida di Pinerolo, proprio sulla vostra attività? Appunto sul territorio pinerolese siamo presenti da 10 anni, ci occupiamo della gestione in toto del canile di Pinerolo, noi siamo tutti volontari quindi ci occupiamo degli animali che entrano, sia cani che gatti. Nel territorio abbiamo in gestione circa una quindicina di colonie feline, il quale vengono sterilizzate e curate e poi insomma raccogliamo tutti i gatti che purtroppo ci abbandonano e quindi ce ne prendiamo cura. E più portiamo avanti tutta una serie di manifestazioni di carattere culturale, l'anno scorso abbiamo fatto Gatti in Festa che promuove appunto il rispetto dei gatti, aderiamo la settimana senza carne, insomma portiamo avanti tutte queste tematiche importanti. All'Animal Day si parla di molti argomenti, si parla anche dei cani di Green Hill che finalmente da poco sono stati liberati, Green Hill finalmente è vuoto, lei è stato lì sul posto per diversi giorni? Sì ho partecipato alle attività di consegna dei cani, ma il concetto di Green Hill, dei cani destinati all'esperimento con gli animali, ci porta, ci introduce anche al discorso dei diritti, cioè nel senso che l'esperimento sugli animali, come tantissime altre attività che riguardano gli animali, si dice chiaramente qual è il problema dei diritti degli animali, nel senso che noi in questa società globalmente e complessivamente si accetta ancora il principio che il diritto dell'uomo valga di più di quello dell'animale, pertanto la sperimentazione animale anche se rappresenta una situazione di dolore, di sofferenza per gli animali, viene accettata perché appunto il diritto umano, al di là della ricerca scientifica, se sia o non sia utile la sperimentazione, però il motivo che regge, il principio che regge la sperimentazione animale è quella che ha il diritto umano e ancora superiore a quello degli animali, quindi è per questo che la discussione, la conferenza che si farà oggi è proprio sul rapporto che c'è tra il benessere degli animali e il concetto del principio dei diritti degli animali. C'è un po' di problemi, intanto giustamente noi tante volte mentre eravamo a Brescia Montichiari dicevamo sicuramente fosse stato un evento simile che avesse riguardato i topi o altri animali sarebbe stata meno partecipazione, io stesso sono perito di parte in una vicenda che riguarda sperimentazione su topi, ma la cosa è molto meno sotto i riflettori dell'attenzione pubblica. L'altro discorso è che io non credo che possa esistere una sperimentazione sugli animali che non sia dolorosa, perché alcuni interventi, alcune pratiche legate alla sperimentazione sono sicuramente dolorose. Noi lavoriamo perché complessivamente si sviluppino sempre di più metodiche che non prevedono l'utilizzo degli animali, questo è possibile, c'è Claude Reis che è un ricercatore che lavora in Francia e che da anni sta promuovendo sempre nuovi filoni di ricerca che non prevedono l'utilizzo degli animali. Poi sicuramente un altro discorso che ci lascia molto complessi è che da anni l'Unione Europea ha detto che non si devono più fare esperimenti per i prodotti cosmetici e questi si continuano a fare, quindi si potrebbe già iniziare a fare molto e a evitare la sofferenza di tanti animali. Dunque, oggi innanzitutto non si parla solo di cani, ma oggi è l'Animal Day, quindi è incentrata questa giornata sui diritti e sulle problematiche di tutti gli animali. Noi, io e il Dottor Moriconi faremo un piccolo incontro, una piccola chiacchierata, conferenza forse è un termine eccessivo, sui diritti degli animali, ma intendiamo farlo in un'ottica piuttosto più globale, in senso più lato, nel senso che bisogna forse uscire dall'ottica che più spesso e più frequentemente ci investe, di pensare ai diritti degli animali soltanto riferiti agli animali a noi più vicini, soltanto riferiti a un senso magari pietistico oppure di affetto o di vicinanza che noi sentiamo nei confronti di alcune tipologie di animali, ma pensare a questo problema come un problema vasto, un problema male. Il mondo degli animali è il mondo dell'uomo, e quindi la nostra idea è quella di proporre una riflessione sulla problematica dei diritti degli animali, che sia una riflessione sul mondo dell'uomo e degli animali che è lo stesso mondo. Lo squadrone animalisti Piemonte-Valle d'Aosta ormai da tempo si batte contro la crudeltà, lo sfruttamento, la vivisezione, le pratiche cruente nei confronti degli animali. Avete avuto un ruolo importante anche nella lotta contro Green Hill ed è stato un momento sicuramente emozionante, finalmente questa è una vittoria, adesso Green Hill è svuotato. Sì, in effetti diciamo che noi ci sbattiamo contro l'allevamento Green Hill dal 24 aprile 2010, cioè da quando si è saputo di questo allevamento che da 2.500 cani vuole ampliarsi a 5.000. da lì è iniziata veramente una grande lotta a 360 gradi di tutti gli attivisti. Noi essendo un gruppo di attivisti che da anni ci battiamo, non solo per Green Hill perché prima c'era l'allevamento Morini di San Polo Densa, abbiamo messo tutte le forze per poter arrivare a questo risultato che non è sicuramente stato facile, perché sono stati anni di manifestazioni, ci siamo fatti sentire a Milano, a Roma, non solo a Montichiari e secondo me questo è stato veramente un grande risultato perché siamo riusciti a smuovere comunque l'opinione pubblica con tutte queste manifestazioni, finalmente siamo riusciti a far capire quello che succedeva dentro quell'allevamento e oggi si è arrivato a un risultato secondo me storico e io mi permetto di dire che comunque se siamo arrivati a questo risultato e anche dovuto a quello che è successo il 28 aprile, non dimentichiamoci che degli attivisti hanno liberato 67 Beagle. E da lì secondo me si è scaturito poi tutta una serie di tematiche che si è arrivati comunque a un sequestro probatorio che speriamo che diventi definitivo e che l'allevamento sia definitivamente chiuso. Grinile è una grande vittoria però la vostra lotta non si ferma, ci sono altri obiettivi, tra poco ci sarà anche una manifestazione per la chiusura di un altro centro, forse ancora poco conosciuto ma diciamo qualcosa anche di Arlan. Sì, è poco conosciuto in realtà Arlan ed anni anche che per Arlan ci battiamo, il sabato prossimo ci sarà una manifestazione nazionale a livello nazionale a Udine dove cercheremo anche lì di far capire che non è che sono solo i cani che sono usati per la vivisezione ma ci sono i macachi, ci sono i conigli e anche lì sarà una battaglia dura tant'è che abbiamo già organizzato per il 20 ottobre un'altra manifestazione a Correzzana, Monza-Brianza dove molti di voi magari sanno lo scandalo delle 90 scimmie che sono arrivate a marzo nel 2012 e dove ancora oggi non si sa bene che fine abbiano fatto e noi comunque siamo anche in questo caso disposti ad arrivare fino in fondo anche con informazioni perché molti non sanno che esiste questo Arlan dove sono gli stabilimenti per arrivare alla totale chiusura però ci tenerei a dire una cosa che noi non ci occupiamo solo di vivisezione noi ci occupiamo anche di allevamenti intensivi, di circhi di grande attualità purtroppo perché proprio in questi giorni è stata uccisa una giovane giraffa di soli 4 anni che cercava solo la libertà che cercava solo la libertà e secondo me oggi è ora che veramente la gente si renda conto che gli animali se uno li vuole vedere li può vedere in televisione cioè il circo è una tortura incredibile per gli animali purtroppo questa giraffa è morta ma secondo me proprio tra virgolette grazie a questa morte di questa povera giraffa oggi ci sarà una grande lotta contro i circhi sappiamo notizia dell'altro giorno che il sindaco di Imola ha praticamente vietato ogni forma di circo con l'uso di animali e noi ci auguriamo, ci auspichiamo che questo avvenga poi in tutti i comuni perché come noi sappiamo questa è una legge comunale quindi non è una legge a livello nazionale ogni comune deve decidere se nel proprio comune possa o no entrare dei circhi con gli animali noi ci auspichiamo e lo faremo se dovesse arrivare comunque i circhi o ad Asti o a Torino con dei presidi sia informativi affinché questa tortura finisca Ecco perché il circo non è quello che si vede quando si portano i bambini il circo è tutto quello che sta dietro il trasporto di questi animali con fatica e il tipo anche di educazione coercitiva comunque per far fare a degli animali per cui non è la loro natura gli esercizi non è assolutamente nella loro natura, parliamo comunque di animali esotici che comunque come dice giustamente lei nel trasporto, già nel trasporto comunque esistono dei maltrattamenti e comunque non è nel loro benessere vivere dentro delle gabbie e fare delle cose che secondo me sono allucinanti solo per far divertire delle persone, quando secondo me il circo sarebbe bellissimo ci fossero diciamo i clown o le persone che fanno ridere le altre persone Ormai da anni attivi per la lotta contro la vivisezione, contro il maltrattamento animale per un mondo più etico, sicuramente ci sono le edizioni Agire Ora Agire Ora è un social network, non è un'associazione come qualcuno può pensare non prevede tesseramenti, iscrizioni, è semplicemente un social network che offre indicazioni pratiche per cominciare a seguire lo stile di vita vegan vivere vegan per chi non lo sapesse significa vivere senza provocare sofferenza agli animali quindi prevede non mangiare animali, non vestirsi con indumenti come pelliccia o pelle che prevedono la sofferenza di animali non usare i cosmetici testati su animali eccetera 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 e offre dei consigli e delle indicazioni pratiche per seguire questo stile di vita senza difficoltà sostanzialmente offre inoltre per quelle eventuali persone a cui non basta vivere vegan ma vogliono magari fare qualcosa di più offre dei metodi, delle indicazioni per come si può eventualmente fare attivismo per i diritti degli animali molte persone pensano che se uno è vegetariano non provoca sofferenza agli animali in realtà un po' più difficile da scoprire è che anche latte, uova, miele, tutti gli alimenti di origine animali provocano sofferenza agli animali è economicamente impossibile creare un alimento di origine animale senza provocarne la morte o la sofferenza brevemente spiego in cosa consiste ad esempio nella produzione di latte ci può essere una vacca o un qualsiasi altro animale da latte che come gli esseri umani produce latte quando fa i cuccioli e quindi vengono fatti nascere i cuccioli e poi il latte viene prelevato per essere venduto invece di darle ai cuccioli questa è una spiegazione molto in sintesi in realtà sul sito Agire Ora Social Network potete trovare gli approfondimenti per capire meglio Per contattarvi, per poter fare qualcosa anche attivamente, vi troviamo? Allora, si può contattare sulla mail indicata sul sito o ancora più facilmente ci si può iscrivere alla main list di Agire Ora Social Network in cui vengono inviate periodicamente delle segnalazioni informative per essere aggiornati sul mondo dell'animalismo o anche semplicemente delle petizioni, delle proteste se uno vuole partecipare esiste la main list nazionale che riguarda le tematiche a livello nazionale o esiste la main list regionale se a qualcuno interessano tematiche sul territorio in cui abita è una storia davvero particolare Fabrizio che è con noi è un ex allevatore allevava bovini per la carne, per l'uso alimentare e poi che cosa è successo? Beh, ci siamo messi un po' in discussione tra me e mia moglie che è la vera allevatrice perché l'azienda è la sua a un certo punto a me non andava più di dover campare sulla vita di questi animali accompagnare, allevarli tutto l'anno, tutta la loro vita per poi destinarli al macello mi sembrava un controsenso ci siamo messi in discussione, abbiamo detto proviamo a vedere se non è in qualche modo possibile vivere differentemente abbiamo puntato sulla coltivazione della verdura e della frutta e visto che gli animali comunque c'erano chiudere tutto voleva dire in qualche modo venderli e destinarli al macello abbiamo pensato un po' il letame comunque è naturale che in agricoltura ci sia ci serve anche per le verdure allora le abbiamo mantenute in vita e si può dire che le sfruttiamo solo per la produzione del letame quindi praticamente la vostra è diventata una fattoria dove gli animali davvero possono morire di vecchiaia sì esatto, da noi muoiono di vecchiaia ci abbiamo lavorato un po' sopra anche di fantasia l'abbiamo condivisa molto con le persone sia con i clienti che ci vengono a comprare la verdura che con il mondo animalista, con il mondo più sensibile agli animali dunque è una cascina molto aperta chiunque può venirci a trovare gli animali l'hanno presa bene perché sono sempre oggetto di coccole dunque al momento siamo tutti soddisfatti di questa scelta è un percorso difficile, non è così semplice lo scoglio principale è rappresentato dai costi di gestione comunque di questi animali non avendo più introiti perché non le facciamo riprodurre né le utilizziamo per il latte perché alla fine comunque anche il latte vorrebbe dire mettere altre vite nel ciclo che poi vanno comunque alla macellazione e allora puntiamo di tirare avanti solo con le verdure e vediamo come andrà che cosa è cambiato a vedere, a guardare, a cudire questi animali prima e adesso con questo tipo di filosofia di vita? guarda ti dico quando sei allevatore alla fine c'è secondo me una difesa proprio del nostro fisico della nostra mente che vedi gli animali come un prodotto sei obbligato perché sennò poi non saresti in grado di ucciderli né di venderli per farli uccidere poi piano piano ti devi mettere in discussione io sono stato avvantaggiato che sono sempre stato molto a contatto con il mondo animalista sono più di dieci anni che faccio la guardia venatoria volontaria poi come associazione che è la lega abolizione caccia a cui ero iscritto e lo sono tuttora ci siamo sempre avvicinati di più al mondo della zoofilia fino ad ottenere le guardie zoofile e lì ho visto anche il brutto dell'allevamento sai non tutti gli animali godono degli stessi diritti nonostante gli sforzi da parte delle asle e delle strutture predisposte ai controlli e piano piano tutta questa sofferenza in qualche modo ti mina un po' dentro comincia a metterti in discussione e con me ci è riuscito parecchio ho cambiato alimentazione, non mangio più carne sono vegetariano, ho ridotto drasticamente anche i formaggi il latte non lo bevo più proprio perché piano piano vedo che comunque è un po' una scommessa che alla fine penso che sia possibile vivere anche più salutarmente per noi senza causare sofferenza ad altri esseri questa è la dimostrazione che quando si guarda un animale come un essere vivente non come una cosa o un bene da sfruttare per guadagno davvero è possibile cambiare e allora davvero una visita nella vostra fattoria può essere anche educativa dove vi possiamo trovare? Noi siamo a Cavour in via Gerbi di Settebaraci è una terra di allevatori Cavour è famosa anche per la settimana della carne dunque noi siamo un po' in contraposizione c'è dei buoni rapporti anche con gli altri allevatori anche perché non forniamo neanche più la concorrenza sai ci siamo tolti dal mercato della concorrenza e ti dico molti si avvicinano a noi anche per curiosità noi vogliamo far conoscere la mucca piemontese come i cavalli come al di fuori il termine è al di fuori del piatto cioè il nostro comune spinge parecchio per far conoscere la razza piemontese nel piatto e noi spingiamo per farla conoscere fuori penso che tutte e due le scelte possano coesistere sullo stesso territorio e magari chi lo sa qualcuno piano piano cambia idea e la pensa come me Anche i cani sciolti di San Carlo sono presenti all'Animal Day a Pinerolo con la loro attività, il loro stand e tra le novità c'è anche una prossima iniziativa che si terrà domenica a 30 di che cosa si tra? è la nostra festa è la festa dei nostri cuccioli cuccioli e non solo, anche cani adulti è un incontro che oramai siamo arrivati alla terza edizione ci consentirà di rivedere tutte queste creature dopo sei mesi, dopo un anno che sono stati adottati e vorremmo celebrarli quest'anno con una sfilata quindi ci sarà l'elezione di mister e miss cani sciolti la premiazione della coppia a sei zampe è il premio simpatia tutto questo in una situazione di campagna insomma all'aperto speriamo che il tempo ci accompagni saremo in una struttura che si chiama Cavallo e Natura che a sua volta è gestita da una veterinaria che recupera cavalli che altrimenti ovviamente non avrebbero più modo di vivere perché sono cavalli o a fine vita dalle corse o comunque cavalli destinati alla macellazione quindi ci sarà questa giornata dove poi avremo anche degli educatori cinofili che daranno delle consulenze avremo dei veterinari insomma sarà una giornata di incontro e a noi ovviamente servirà anche per raccogliere dei fondi infatti da mezzogiorno e mezza a lunedì mezza ci sarà un picnic tutto rigorosamente preparato da noi è un picnic sull'erba e quindi chi avesse piacere di venire a questa giornata è una cosa da non perdere è di grande emozione per noi sempre quindi lo ricordiamo, si chiama, è molto particolare anche il nome Una Domenica Bestiale l'appuntamento è già a partire dal mattino dalle 10.30 presso Cavallo e Natura a Poirino, sì sì presente all'Animal Day anche il centro veterinario Monviso la dottoressa Raineri voi collaborate attivamente con diversi canili associazioni del territorio della provincia di Torino Sì, noi siamo convenzionati con la canile della Lida di Pinerolo e il canile di Cavour sarebbe il gruppo cinofilo qui dietro e nello stesso tempo mi occupo di un'associazione capoverdiana che è una onlus che raccoglie fondi per poter sostenere il progetto in Italia e mi occupo della parte veterinaria come centro veterinario Monviso invece ci occupiamo della salute delle urgenze, degli animali, dei canili in collaborazione con altri veterinari sempre che si occupano anche degli stessi canili però siamo quelli un po' più preposti alle parti del pronto soccorso perché sendo una clinica aperta 24 ore su 24 veniamo utilizzati principalmente per queste cose per le lunghe degenze, per i ricoveri importanti eccetera nello stesso tempo l'impegno che mettiamo nel nostro lavoro oltre alla passione è quello di cercare e assolutamente la nostra regola è mantenere la stessa qualità di lavoro che diamo al pet del cane importante comprato a decine di migliaia di euro per i cani grandaggi di conseguenza la qualità non cambia è un impegno molto forte anche da parte dei canili perché comunque i canili hanno sempre un budget limitato è comunque sempre legato alle offerte e al volontariato però comunque riusciamo a mantenere queste cose e con la collaborazione tutti insieme riusciamo a farlo facciamo volontariato anche due ore o tre alla settimana per ognuno dei due canili andiamo a fare le visite localmente e l'impegno c'è insomma cerchiamo nel nostro piccolo di esserci sempre però quello che cerchiamo di insegnare alle persone di sterilizzare gli animali perché è molto importante controllare il numero dei nati e quindi è sempre difficile cercare di diciamo aiutarli a capire che non è una cattiveria quella di non far fare cuccioli agli animali ma che sarebbe proprio legato alla loro salute una delle cose che cerchiamo di sfatare prima in persona è il fatto di dover non essere d'accordo su quelle voci che girano dove si dice che l'animale deve fare almeno una cucciolata per stare bene non è vero, assolutamente è il contrario se una cagnolina riesce a essere sterilizzata prima dei sette mesi, prima del calore ne va della sua salute non avrà mai praticamente è sicura di non avere problemi di tumori mammari che è una delle malattie più frequenti che abbiamo cerchiamo di fare educazione adesso stiamo organizzando un progetto proprio di stage di salute e di primo soccorso anche con i volontari dei canili che ci seguono in modo che anche attraverso il volontario noi riusciamo ad avere delle informazioni più veloci e più utili nel vedere il benessere dell'animale che abbiamo Lei collabora attivamente anche alla formazione veterinaria per una ONLUS Simabog L'associazione si occupa appunto della cura gratuita e dell'esterilizzazione degli animali di Capoverde nel principal modo nell'isola di Sauvincente la sede locale a Capoverde è a Mindelo invece in Italia come ONLUS io mi occupo della formazione dei veterinari volontari che andranno a lavorare là e quindi offriamo gratuitamente al centro veterinario Monviso uno stage per i veterinari che vanno a lavorare là i volontari non veterinari invece sono seguiti direttamente dal presidente dell'associazione che è Silvia Punzo che li forma e li fa lavorare là chiunque può andare a lavorare a Mindelo e chiunque può essere d'aiuto anche solo per portare a passeggio i cani del rifugio che da due, tre, dieci che erano in tre anni sono 90 ospiti al rifugio di Mindelo per cui sono veramente tanti L'OPA è nata, è stata fondata nel 2003 da un piccolo nucleo di persone e oggi conta più di 35 volontari avevate un grande sogno quello di poter realizzare un gattile è stato difficile piano piano forse diventerà una realtà Sì, noi diciamo che è dal 2003 che combattiamo per avere un riconoscimento sul randaggismo felino finalmente dopo stress e su stress si era passato in consiglio comunale con un consigliere comunale nel 2004 siamo riusciti a far riconoscere le colonie filine dal comune di Pinerolo da lì comunque si sono manifestate una serie di difficoltà perché comunque trovi il gattino dove lo metti le case dei volontari sempre strapiene io che corro avanti e indietro io che vagono quando un animale sta male perché gli voglio molto bene agli animali e quindi da lì una grande sofferenza per avere un sogno realizzare un gattile e quindi riuscire a non preoccuparsi quando trovi il gattino pre strado dove lo metto e dove lo porto finalmente dopo grande lotte siamo riusciti a farci dare un pezzo di terreno nel 2006 avevamo raccolto 850 firme per questa cosa qua come cittadini di Pinerolo quindi adesso ci servono solo tanti fondi il progetto ce l'ha in mano un geometro, un professionista e quindi speriamo di realizzarlo il più in fretta possibile il mondo animalista in Piemonte è sempre più attivo e ricco di idee dalla provincia di Torino nasce un progetto per dare una mano agli animali, ai cani, ai randaggi abbandonati della Sardegna è un progetto innovativo perché non si tratta di salvarli e portarli via ma di creare una cultura sul territorio in qualche modo assolutamente sì è un progetto in cui noi crediamo molto che mira a sensibilizzare il problema che vive la Sardegna come tante altre regioni del sud Italia il randagismo è una piega sociale nell'isola che non conosce appunto purtroppo limiti noi siamo nati appunto per caso anni fa da alcune esperienze di campi di aiuto cioè campi di lavoro fatti in alcune strutture sarde da lì abbiamo voluto creare un gruppo nel nord Italia quindi a Torino dove periodicamente noi partiamo per andare giù in alcune strutture della Sardegna quindi strutture precarie della Sardegna che accolgono cani una volta conosciuto il problema che vive appunto quel determinato canile andiamo a contattare i sindaci e le amministrazioni locali quindi ASL, Vigili Urbani eccetera e portiamo la nostra conoscenza del randagismo che noi qua in Piemonte per certi versi non viviamo quindi andiamo lì mettiamo a conoscenza il sindaco e l'ASL di quello che esiste da noi quindi come fondi stanziati dalla comunità europea dalla regione eccetera e li mettiamo a conoscenza di questi fondi e cerchiamo di fargli seguire un percorso perché questi fondi possono creare strutture nuove quindi per accogliere cani perché il nostro fine è questo quindi noi partiamo per prima salvare il cane sul territorio poi naturalmente se ci fossero delle richieste di adozioni da noi anche in Piemonte noi abbiamo un sito che si chiama zampesarde.it è l'omonimo gruppo su Facebook Zampesarde dove chiaramente con appelli che noi diffondiamo se ci sono delle richieste specifiche li facciamo arrivare qua da noi in Piemonte, in continente